Rilasciava certificati medici sportivi non agonistici ai ragazzi che frequentano il campo di rugby Kersoni a Iolo a bordo di un camper attrezzato ma non idoneo, senza la specializzazione richiesta né l'autorizzazione. A scoprire il medico ambulante di 48 anni, residente nella provincia di Salerno, sono stati i carabinieri della stazione di Iolo e del NAS di Firenze. Ieri sera lo hanno sorpreso a effettuare visite mediche a bordo del suo camper adibito ad ambulatorio. Il blitz è scattato a seguito di alcune segnalazioni arrivate ai militari della locale stazione. A bordo c'era tutta l'attrezzatura necessaria per vere e proprie visite ai ragazzi del Kersoni. Dall'attrezzatura per la spirometria, per la misurazione della pressione sanguigna, per l'ECG sia a riposo che anche sotto sforzo. Sia il camper che l'attrezzatura sono stati sequestrati in via preventiva e affidati in custodia giudiziaria allo stesso medico che è stato denunciato a piede libero. Al momento non sono emersi elementi che accertino un coinvolgimento delle società sportive che utilizzano l'impianto del Kersoni. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giampaolo Mocetti, proseguono anche per capire il giro d'affari che il medico potrebbe avere messo in piedi con il suo ambulatorio mobile. Sicuramente aveva delle condizioni vantaggiose e ovviamente ecco perché magari i pazienti si rivolgevano al medico in questione ed inoltre offriva anche il servizio a domicilio. Lo stesso rilasciava delle certificazioni mediche per attività sportiva non essendo un medico specializzato in medicina dello sport. Grazie per la visione!